Allora, buonasera a tutti i nostri amici web ascoltatori, amici e amiche che ci seguono su Libri.tv. Questa sera lo spazio Certi Diritti ha come ospite Anna Maria D'Andrea, che è socio, uno dei pochi purtroppo del sud, dell'associazione Polis Aperta. Adesso Anna Maria, innanzitutto la salutiamo. Ciao Anna Maria. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. E poi chiediamo ad Anna Maria di parlarci un po' dell'associazione Polis Aperta, per chi non la conoscesse. Allora, Polis Aperta è un'associazione ovviamente a tematica gay, lesbo, trans italiana, fa parte anche a livello europeo dell'associazione che collega tutte le polizie e anche i componenti dell'esercito dell'Europa. Nata nel 2005 per volontà di qualche amico che svolge l'attività o nelle forze dell'ordine o nelle forze di polizia, si è allargata piano piano, perché purtroppo come bene puoi capire Riccardo, non è facile nell'ambito di comunità gerarchicamente inquadrate, regolamentate, che svolgono un'attività di ordine pubblico, di servizio alla collettività, non è facile, per chiamo i sessuali, dichiararsi, non è facile essere accettati, non è facile, altrimenti siamo in Italia, Riccardo è inutile dire sempre le stesse cose. Certo, ma il discorso giustamente credo sia molto ampio, anche perché poi comunque in un comune magari anche piccolo del sud o comunque la realtà del sud può essere forse differente da una realtà del nord. Guarda, io credo che in Italia si possa fare un discorso di questo genere, una cosa sono i grossi centri, una cosa sono i piccoli centri, io non vedo tutta questa differenza da questo punto di vista tra nord e sud, mi permetto di dirtelo che io ho avuto esperienza lavorativa soprattutto al nord, sono scesa in Calabria da sei anni, però ho iniziato la mia attività in una città come Modena, anche io ti posso garantire che ho avuto grossi problemi. Diciamo che per fortuna magari da un decennio a questa parte i costumi sono cambiati, la società è andata avanti, più dei nostri politici, questi sono discorsi che voi sicuramente fate ogni volta che vi trovate. Piano piano anche una comunità ristretta come quella delle forze militari e delle forze di polizia stanno avendo l'input anche tramite riconoscimenti legislativi da parte anche degli organi. Noi per esempio abbiamo aderito a un osservatorio che è presso il Ministero degli Interni che si chiama OSCAD, è un acronimo che riguarda tutte le segnalazioni che i cittadini e le cittadine possono inviare, non sostituisce ovviamente la denuncia che può essere presentata alle forze di polizia o direttamente alla Procura della Repubblica in caso di dimiscriminazioni, in caso di crimini di odio, in tutti quei casi in cui l'essere omosessuali genericamente inteso può essere o un aggravante o la causa di eventi illeciti dal punto di vista penale, le offese, gli oltraggi, per non andare anche oltre a reati più gravi come l'elesione, come la violenza, se ne sentono di tutti i colori, vero ultimamente. Qual è la difficoltà maggiore per una persona omosessuale che lavora in un corpo militare o barra militare? Ma quella ovviamente di essere attitata come una persona, fra virgolette, non consona all'ambiente. Invece noi, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, ma l'esperienza che vedo anche in tutti i colleghi che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, abbiamo quella sensibilità in più per avvicinarci al cittadino e non solo specificamente al cittadino dichiaratamente o anche indichiaratamente omosessuale, ma in genere. Abbiamo quella sensibilità che devono iniziare a riconoscerci, oramai penso che a tutti i livelli, a tutti i livelli lavorativi. Quello che mi preme sottolineare è che la nostra è un'associazione aperta alla società civile, possono infatti far parte della nostra associazione anche altri non appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, alle forze militari. C'è in noi il desiderio di aprirci al mondo esterno, alla società civile, oltre che ovviamente fare da primo approccio per tutti i colleghi che avessero voglia di darci una mano, che si sentono magari anche vessati, anche soli. Perché sai, l'unione fa sempre la forza. Quello è poco ma sicuro, tra l'altro sul vostro sito www.polissaperta.it c'è la possibilità di iscriversi e mi pare di aver letto che l'iscrizione costa 15 euro all'anno, quindi vi possono anche sostenere tra le vostre battaglie e le vostre attività. Ovviamente sì, noi speriamo di crescere sempre, fra parentesi se questo può essere uno stimolo in più soprattutto per le colleghe donne. Il nostro Presidente è una bravissima collega della Polizia Municipale di Bologna, una donna eccezionale, Simoretta Moro, più giovane di me, ma agguerritissima, intelligentemente agguerritissima nel proporsi, nell'essere ascoltata, ha avuto la fortuna per esempio di avere contatti con il questore lì a Bologna, ha partecipato a varie iniziative in tutta Italia, compreso ovviamente il direttivo della Polizia Municipale, l'ultimo incontro c'è stato sabato a Bologna e noi cerchiamo anche con i nuovi mezzi a disposizione di collegarci il più spesso possibile, di coinvolgere più realtà possibili. Io sono felice, se mi dai l'opportunità, questa è una novità, c'è stata da pochi giorni l'elezione dell'EOS Cosenza, io sono una delle socie, c'è stata l'elezione del nuovo Presidente, anch'essa una donna, Lavinia, alla quale io faccio i migliori auguri, c'è stata praticamente la nascita del nuovo direttivo, io a tutti loro auguro veramente un buon lavoro. Con Lavinia ci sarà opportunità, mi ha dato questa possibilità di lavorare anche con Polizia Perti, loro sono veramente felici di dare la possibilità a me, come portabandiera e poi spero di coinvolgere attorno a me tutti i colleghi e le colleghe che vorranno fare parte dell'associazione, non solo ovviamente a Cosenza in Calabria, sono molto attivi, tu lo sai, la Cicheia di Leggio, di prossima formazione la Cicheia a Mezzia, ma qualsiasi altra associazione, noi non facciamo distinzione assolutamente né di colore politico né di casacche associative, siamo anche sopra delle parti come dei bravi operatori di polizia e militare. Infatti io miro molto il fatto che comunque esistano delle associazioni, anche che si rivolgano proprio all'aspetto militare o comunque delle forze dell'ordine, perché credo che sia anche naturale che le persone che non sono dell'ambiente omosessuale o comunque che non conoscono bene, debbano convincersi che le persone omosessuali sono intorno a loro, fanno dei lavori comunissimi, tra cui magari il vigilo urbano può essere anche, non lo lo stesso, lo stesso grabbiniere. Vigilo urbano no, polizia municipale o polizia locale, perché in termini, ha un'accezione oramai il vigilo urbano, un'accezione un po' negativa secondo me, un po' così, invece noi siamo polizia a tutti gli effetti, ci chiamiamo polizia di prossimità secondo il legislatore, perché siamo la prima polizia più vicina al cittadino, noi e i colleghi della polizia provinciale diciamo che siamo le prime forme di tutela sia dell'ordine pubblico che ovviamente della sicurezza urbana, ai quali i cittadini possono e devono rivolgersi, a maggior ragione ovviamente i cittadini e le cittadine omosessuali. Tu dici che è importante tra l'altro collaborare con le associazioni LGBT, indipendentemente questo dall'estrazione politica o dall'orientamento in generale che può esserci in un'associazione come magari, non so, l'ARCA, certi diritti, quality e polizia aperta, famiglia di arcobaleno e chi ha GEDO, chi più ne ha più ne ha aperta, perché comunque obiettivi sono comuni. Vogliamo parlare delle carenze che ci sono in Italia, delle normative, di quello che anche voi cercate di fare come polizia. Allora, innanzitutto chi ha voglia di contattare, tu hai detto giustamente il sito, può scaricare gratuitamente il Vademecum per un approccio diretto soprattutto ai reati che possono, diciamo così, e alle tutele penali e civili che sono a disposizione del cittadino qualunque esso sia nel momento in cui ha necessità di confrontarsi con la giustizia, fra virgolette, per determini negativi di reato. Noi riteniamo che, d'altronde in Italia, tu lo sai, il cosiddetto terzo settore, cioè il volontariato, l'associazionismo, è sviluppatissimo perché purtroppo abbiamo, iniziando dalla nostra Carta Costituzionale, delle legislazioni ottime sotto tanti punti di vista delle belle leggi che però purtroppo o vengono disapplicate o non vengono applicate, oppure deve scattare diciamo così il grosso fatto di cronaca perché magari ci si renda conto che ci sono lacune e discrepanze tra il fatto in sé e la legislazione che dovrebbe accompagnare la tutela di questo fatto. Noi spesso ci troviamo, noi associazioni, a dover andare avanti da sole perché purtroppo lo Stato italiano non vuole assolutamente riconoscere i diritti sacrosanti degli omosessuali sia, secondo me, singolarmente presi, sia in una eventuale comunione di coppia. Questo poi ovviamente dipende anche dal fatto, tu sei un radicale quindi lo sai meglio di me, della vicinanza, del fatto che in Italia, secondo il mio modesto parere, se posso esprimermi, io non ho mai fatto mistero del mio ideale politico in associazione, lo sanno, è spesso ben bacchettata perché magari sono una che, così, insomma, dico la mia senza peli sulla lingua, però bisogna restare nell'ambito democratico. Noi siamo appartitici, politici, però lasciami dire che la presenza dello Stato del Vaticano non ha mai reso possibile in Italia lo scatto di laicità che invece, secondo me, c'è in altri paesi, nonostante altri paesi siano cattolici quanto e come l'Italia. Faccio l'esempio della Francia, faccio l'esempio della Spagna, che sono i paesi più vicino a noi. Siamo fanali di coda in Europa e dobbiamo continuare a pagare sanzioni pecuniarie perché ovviamente poi l'Europa ci bacchetta. Adesso ho questa parola, ce lo chiede l'Europa. L'Europa vi chiede anche di mettervi a posto dal punto di vista dei diritti civili, non vi chiede solamente di tartassare i cittadini, magari sempre quelli e i pensionati, vi chiede anche di fare uno scatto in più, di capire che la società civile sta andando molto avanti, più delle teste che ci governano e che bisogna iniziare a prendere posizione e a ragionare con le nostre teste e non con quelli dei vescov italiani. Anche se, ripeto, io sono molto, non sono credente, però ho molto rispetto per tutte le persone religiose, per qualsiasi religione, anzi ritengo che i cattolici e le altre confessioni religiose possono darci una grossa mano in Italia. Penso ai valdesi, anche per gli ebrei. Infatti, stavo dicendo proprio questo, i valdesi comunque si sono aperti maggiormente rispetto ai cattolici perché hanno aperto alle benedizioni, alle unioni omosessuali. Poi, come si parlava di legislazione, c'è da dire anche che comunque i gay, le persone omosessuali in genere, gay, lesbici, transessuali, sono persone che comunque lavorano e danno un contributo economico alla struttura di questo paese e quindi versano le tasse e non è giusto che vengono considerati come cittadini di serie B. Perché non uguali i diritti per tutti? Il matrimonio tra persone dello stesso sesso e le pensioni in generale. Riccardo, io penso che tutta la comunità omosessuale, di qualsiasi estrazione politica, partitica sia, se si mettesse in testa, mettiamo il caso che un giorno ci svegliamo tutti quanti noi, dici vabbè, adesso d'ora in poi iniziamo a fare anche noi come in America, ci costituiamo in una lobby. Quanti saremo? Il 20% della popolazione? Il 20% è già un partito, voglio dire, faccio adesso una sociologia politica spiccia. Quanto conta il 20% in Italia? Può contare, può contare tantissimo, può decidere se vince una coalizione piuttosto che un'altra. iniziamo a fargli paura, iniziamo a fargli capire che il nostro voto ha conto a come quello, scusa se te lo dico visto che siamo nella nostra triste realtà dell'ondranghetista o del bigotto, iniziamo a fargli capire che se il 20% della popolazione inizia a incazzarsi sempre democraticamente e a difendere a spada tratti i propri diritti e a pretendere quelli che non ha, la situazione in Italia prende un'altra piega. Siccome tutti i partiti politici, anche a destra, hanno capito che il nostro voto è importante, bene o male stanno ricevendo vari input che vengono dalle nostre associazioni e anche ovviamente dai parlamentari dichiaratamente omosessuali che sono presenti adesso in Parlamento. Fortunatamente ci sono adesso persone sempre di più che si dichiarano omosessuali sia in politica ma anche nel mondo dello spettacolo, pensiamo a Tiziano Ferro, pensiamo anche alla figlia di Roberto Vecchioni che è complata a giuste nozze purtroppo all'estero e ha usufruito dell'inseminazione artificiale all'estero e purtroppo in Italia le bambine, le gemelline che hanno avuto sono praticamente figlie solo di una delle due madri. Sono intolleranze che non si possono tollerare, noi che lavoriamo con le leggi, ciò che ci dicono le leggi, noi operatori del diritto, perché siamo anche noi operatori del diritto, io trovo veramente sconvolgente una cosa di questo genere, che possano essere previste delle normative di favore per tutti tranne che per la comunità omosessuale italiana. Ripeto, al di fuori di ogni schematismo europeo, al di fuori di, vogliamo parlare di paesi civili, noi siamo penso proprio un paese incivile da questo punto di vista e quindi io mi auguro che se non il legislatore, quantomeno chi apre il diritto, quindi i giudici, la consulta, i consigli di Stato, i vari organismi interni, per esempio tu sai che, non so se l'hai saputo, lo stesso ministro cancellieri è dovuto scendere a pati, è stata richiamata e ha applicato anche alle coppie dello stesso sesso determinate, adesso non ricorso di preciso, da vantaggi che erano previsti anche per le coppie di fatto, cosiddette di fatto. Così come in Parlamento e lo sai anche tu, i giornalisti hanno la possibilità, le coppie non sposate regolarmente, di avere la pensione di diversibilità in caso di morte di uno dei due collegi. Allora, se sono previste per determinate categorie di persone, dovrebbero essere allargate a tutti. c'è la possibilità... Ti dirò di più? Sì, sì, scusate. Ti posso aggiungere una cosa, quello che dicevano i giornalisti, io all'epoca feci anche una ricerca, addirittura c'è stato un caso in Italia, parliamo di Neil DeGio, che addirittura ha avuto la possibilità di adottare, di adottare una bambina che adesso è un'alluminare della medicina, adesso non mi viene il nome, comunque addirittura ci sono casi di reversibilità di pensione, di adozione, di coppie di fatto, quindi privilegi, di caste, di situazioni comunque anomale che hanno i nostri politici italiani che purtroppo i comuni cittadini non possono beneficiare perché facciamo, come dicevamo prima, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Io ti volevo fare una domanda molto breve che era inerente alla questione che dicevamo prima della visibilità in politica, quanto conta invece secondo te la visibilità di una persona comune, quindi di gay e lesbiche in un panorama quotidiano? Quanto conta il proprio camminato? Moltissimo, moltissimo perché ovviamente più si è visibili e meno si diventa problema, più si vive alla luce del sole, più la gente è costretta a rispettarti, se non altro per evitare brutte figure o prendersi delle querele, a me è successo anche un caso, però io mi sono affidata alla legge, la situazione è in itinere, però se tu sei rispettosa dei diritti altri, devi pretendere che anche gli altri rispettino i tuoi diritti, la tua vita privata e anche la vita pubblica, nel senso che chiunque di noi ha rapporti sociali, lavorativi, deve essere tutelato nella propria personalità, non possiamo continuare ad uscire la mattina e vestirci da eterosessuali tutti quanti, non è possibile, c'è chi più è visibile, chi è meno visibile, però noi non portiamo addosso la nostra affettività, noi siamo esseri umani che andiamo a lavorare, pensiamo al lavoro, ripeto, magari abbiamo più sensibilità di altri, ci stressiamo, soffriamo, magari pensiamo subito al venerdì come tutti quanti, insomma io penso che questa differenza non esiste, io oramai ho una certa età, mi sono fatta sempre… Ma no che sei giovane, dal mio camera non si direbbe, dal 12 gennaio faccio 50 anni, però io sono contenta di scoprire che ci sono delle ragazzine di 18, 20 anni che non si fanno tutti i problemi che per esempio mi facevo io 30 anni fa, nonostante io sia sempre stata iniziando dalla famiglia la peccora nera, nel senso che poi io diciamo che lo facevo anche per sfida, ma perché io ho un carattere un po' particolare, però io so di casi di gente che ha sofferto, ha sofferto, ha sofferto per una cosa per la quale non bisognerebbe soffrire neanche mezzo secondo, perché ripeto, dovrebbe riguardare la propria sfera affettiva privata, anche se dall'altro canto c'è chi dice allora se è effettiva privata, perché vuoi il riconoscimento? E io posso aggiungere perché no, basta solo dire perché no, perché a te sia, a me no, perché la Costituzione prevede l'istituto del matrimonio e perché questo istituto non deve essere allargato a me, perché nel Codice Civile c'è una norma che prevede la nullità del matrimonio fra persone dello stesso sesso, non so se rendo l'idea Riccardo, quella norma va eliminata, perché oramai la società riconosce che è necessario, che è indispensabile, che è tempo e ora, che anche noi, o meglio chi vuole convolare a giuste nozze lo faccia, con tutti i diritti. Ma infatti non parliamo solo di convolare a giuste nozze perché poi sarebbero tanti diritti da estendere a delle persone dello stesso sesso, io penso che ne basterebbe uno che rende veramente uguali dinanzi alla legge i cittadini, se veramente i cittadini fossero uguali dinanzi alla legge non ci sarebbero discriminazioni di ogni sorta. Quello è l'articolo 3 della Costituzione, quella è la base, giusto solo Silvio Berlusconi pensava di essere fuori dalla legge, adesso anche lui ha dovuto capire che quando il popolo decide basta, decide basta insomma per questo. L'articolo 3 esiste, bisogna allargarlo a tutti quanti. Anna Maria, le situazioni che riguardano per esempio l'immigrazione, sono tutte quelle situazioni così, che lambiscono la legge ma non sono tutelate dalla legge e magari poi ci deve pensare anche. Sì, quello sicuramente il legislatore comunque fa la sua parte, un po' come la sentenza, l'ultima sentenza della Corte Costituzionale in merito alle famiglie di fatto che ha lasciato al legislatore e la possibilità di legge fare il merito, però si è riservata la possibilità, allora il legislatore non l'avesse fatto, di intervenire personalmente per normare questo vuoto legislativo che nella nostra legge purtroppo c'è. Ricordiamoci che alla Corte Costituzionale accedono giudici, avvocati di una certa età attempati, non ragazzini di 30 anni, quindi gente che magari è vissuta da giovani in un'altra epoca, quindi se sono andati avanti loro, voglio dire, anche i nostri legislatori potrebbero pure andare avanti. Secondo me comunque bisognerebbe da parte della nostra comunità proporre la candidatura di persone che si danno da fare nel mondo omosessuale di più rispetto a quelle che ci sono adesso. Anna Maria guarda, sarebbe una proposta che lancio qua, è una proposta ottima perché in campagna elettorale si dice tutto, il contrario di tutto, poi magari quando si vincono le elezioni vengono smentite tutte le proposte, le promesse fatte agli elettori. Io ho solo due minuti di tempo, io voglio dedicare questi minuti per darti la possibilità di parlare brevemente del motivo che deve spingere le persone a iscriversi a Polis Aperta o comunque a sostenere Polis Aperta. Allora, le forze dell'ordine, le forze di polizia, le forze militari soprattutto in questo ultimo periodo stanno subendo attacchi interni e attacchi esterni per determinati episodi che sono capitati e che io stigmatizzo perché ritengo che qualsiasi operatore di polizia deve operare nel pieno rispetto delle leggi democratiche e della Costituzione del nostro Paese, quindi a favore del cittadino e non contro il cittadino. Avere la possibilità di avere all'interno delle forze di polizia e delle forze militari, poliziotti e operatori militari dichiaratamente omosessuali e sereni e sicuri nel loro lavoro può dare la possibilità al cittadino di interloquire con persone preparate verso determinati argomenti e soprattutto può consentire anche alla comunità omosessuale di avere un interlocutore privilegiato per qualsiasi tipo di situazione che si voglia indicare o far uscire fuori, come si suol dire. Noi abbiamo bisogno della vicinanza di tutte le persone omosessuali, gay, lesbiche, transgender in genere, dei cittadini anche etero, dei colleghi e delle colleghe che magari si sentono abbandonate, che si sentono spaventate, impaurite di dichiararsi, di avere un ascolto. Noi garantiamo ovviamente il massimo anonimato, abbiamo per esempio all'interno di Facebook, abbiamo una nostra pagina totalmente staccata dal resto della rete, perché possiamo capire le persone. Siamo sempre all'interno di Polis Aperta, però c'è una pagina che è aperta solo per noi. Non necessariamente devono avvicinarsi i colleghi o le colleghe dichiarate. Io per esempio fino a qualche mese fa non lo ero, però dopo Bologna ho preso coraggio e sono stata felice di averlo fatto perché mi sono sentita libera, libera veramente per la prima volta, fiera della divisa che indosso e se posso essere d'aiuto anche a uno solo dei colleghi in difficoltà per il solo fatto di essere, x e y, io sono contenta. Io spero che dopo questa chiacchierata, e mi auguro che seguiranno altre soprattutto con la nostra Presidente, perché Simonetti è una ragazza veramente che vale la pena di conoscere, tu sei ovviamente con la tua televisione invitato a tutti i nostri prossimi incontri e spero di organizzarne qualcuno anche in Calabria. Noi speriamo che al Sud più colleghi abbiano voglia di mettersi in gioco, darsi da fare, ma se vogliono anche di tenere la nominato per incontrare degli amici che parlano la stessa lingua. E spero che altri mestieri, altre professioni, io so che c'è la rete Lenford per l'avvocatura, io mi auguro che i professori, i maestri, gli ingegneri, gli architetti, tutte le professioni e tutti i mestieri sentano la necessità di avere un'associazione come Polis Aperta. Poi ripeto, di politica ne possiamo parlare agli osa, ma l'essenziale è che l'associazionismo omosessuale vada sempre avanti, possibilmente unitariamente, il più unitariamente possibile. Grazie Anna Maria, veramente, ringraziamo nuovamente Anna Maria D'Andrea di Polis Aperta, se vi volete iscrivere, se volete sostenere Polis Aperta www.polisaperta.it e per il resto ci vediamo su Facebook, sempre Polis Aperta, se volete rivedere Anna Maria la trovate sulla nostra pagina www.liberi.tv fra qualche ora e cosa dirvi, appuntamento alla prossima puntata di Spazio Certi Diritti e magari, chissà, in compagnia non solo di Anna Maria, ma della Presidente questa volta o di qualche altra persona che voglia parlare con noi di questa bellissima associazione. Grazie ancora Anna Maria, io restituisco la linea Donato Volpicella e buon proseguimento delle trasmissioni di liberi.tv. Grazie ancora Anna Maria. Buonasera a tutti, grazie Riccardo, ciao ciao. Grazie a tutti.